Ci colleghiamo in studio con Samuele Venturini per parlare di attualità e ambiente. Bentrovato. Ciao a tutti, ciao Sara. Parliamo dei gasdotti Nord Stream, danneggiati che stanno facendo discutere in questi giorni e che sono in qualche modo parte del conflitto tra Russia e Ucraina e la Nato. Queste condutture che partono dalla Russia si estendono per oltre 1200 km attraverso il Mar Baltico fino ad arrivare in Germania. Possono trasportare fino a 110 miliardi di metri cubi di gas sufficienti per alimentare 26 milioni di abitazioni. Oggi sui cieli di Svezia e Norvegia si è formata quella che i media di questi paesi definiscono una grande nuvola di metano dovuta alle perdite di Nord Stream 1 e 2 che probabilmente sono stati sabotati negli scorsi giorni. Ma di cosa si tratta esattamente e quali sono i rischi per l'ambiente e per il mare? Anche dalle fonti in mio possesso appunto si è trattato di un sabotaggio. Pensa che le agenzie della Danimarca a livello geologico hanno registrato delle scosse proprio in quel momento e in quei territori. Per cui queste esplosioni che sono avvenute hanno causato la fuoriuscita di metano che dentro ai tubi ovviamente è in pressione. Si tratta appunto di un gas che è stato rilasciato da questo incidente e è iniziato a espandersi nel mare ma è salito subito appunto in atmosfera. Creando quella che appunto hai definito anche tu una sorta di nuvola di metano. Questa quantità va un attimo stimata. Se non vado errato appunto si tratta all'incirca di 40 mila tonnellate. Però vorrei puntualizzare questa cosa. 40 mila tonnellate sono all'incirca 004 teragrammi. E per parlare di metano noi dobbiamo parlare di teragrammi. Cioè un milione di tonnellate come grandezza. Ecco che nel mondo ogni anno vengono prodotte 540 teragrammi di metano. Quindi capisci che quello che è successo in quell'incidente fortunatamente è qualcosa di molto 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 ridotto. Quindi non sta causando danni all'ecosistema marino ma vediamo cosa succede appunto a livello atmosferico. Il 96% di quello che era contenuto all'interno dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 era proprio metano. Quindi in che modo influisce il metano? Il metano è un gas serra. Pensa che ha una potenza di gas serra che è circa 30 volte maggiore di quella della CO2, dell'idride carbonica. Vero è che il metano permane in atmosfera per molto meno tempo. All'incirca un decennio ma non solo. Quasi tutto il metano che viene prodotto sia naturalmente che a livello antropico viene poi degradato. dall'atmosfera, dal suolo ma anche dai microorganismi. Quindi siccome ci sono varie correnti in atmosfera che distribuiranno questo metano in tutto il globo mi aspetto che la quantità di metano che possa causare squilibri momentanei sia veramente irrisoria. Per cui non mi aspetto nessun impatto conclamato a livello climatico. Ma qui dovremmo approfondire nei prossimi giorni. Grazie al biologo Samuele Venturini per essere stato con noi. Grazie a voi. Noi invece ci vediamo tra pochissimo dopo le previsioni del tempo.